La ringrazio Presidente e rivolgo un augurio molto intenso a questa edizione così particolare del Forum, un augurio e buon lavoro e un saluto cordiale a tutti i presenti. La drammatica crisi provocata dalla pandemia è stata uno spartiacque per l'Unione Europea che, come lei ha poc'anzi ricordato, in meno di sei mesi, in pochi mesi, ha compiuto scelte coraggiose e innovative che soltanto qualche settimana prima dell'inizio di quella crisi apparivano decisamente fuori portata. La pandemia ha avuto l'effetto di un duro richiamo alla realtà, rendendo ancora più evidente a tutti, cittadini e governi, che trincerarsi in una presunta propria autosufficienza non era una risposta contro un nemico conosciuto e aggressivo. La diffusione del virus di paese in paese in maniera inarrestabile ha dato plastica dimostrazione di come sempre di più i pericoli tendano, come ogni problema, a essere trasnazionali e di come quindi possa essere efficace soltanto una collaborazione multilaterale senza riserve.